Terribile incidente in A14 tra Petacciato e Termoli, dove due persone sono morte e altre due sono rimaste ferite gravemente. A bordo del Fiat Dobloche si dirigeva a sud un'ittera famiglia di bisceglie, moglie, marito, figlia e fidanzato della ragazza. A perdere la vita sul colpo sono stati quest'ultimo di 36 anni e la moglie 56enne dell'uomo che era alla guida del mezzo. Entrambi si trovavano sul lato destro della vettura che è stata squarciata dal guardrail. A ghiacciante la scena che si sono trovati davanti i soccorritori, i primi ad arrivare, i vigili del fuoco di vasto, l'abitacolo del Doblo sventrato dalla barriera metallica che si è trasformata in una lama e i corpi senza vita di due dei quattro passeggeri incastrati tra le lamiere. In ospedale al Santimotio di Termoli le ambulanze del 118 hanno portato i sopravvissuti, papà e figlia. L'uomo di 59 anni che guidava l'auto ha riportato diversi traumi ed è stato ricoverato in stato di shock. Più serie le condizioni della figlia di 30 anni che i medici hanno dovuto sottoporre un intervento chirurgico. Sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di Termoli e diverse pattuglie della polizia autostradale per i rilievi, oltre a personale dell'ANAS. Il Doblo è stato l'unico mezzo coinvolto e stando a una prima ricostruzione ci potrebbe essere stato un malore o un colpo di sonno del conducente. La vettura avrebbe sbandato sulla destra percorrendo un po' di strada fuori dalla carreggiata in un tratto senza guardrail, fino all'incontro fatale e tragico con la barriera di metallo che non ha lasciato scampo a chi era seduto sul lato destro della macchina. La corsia a sud è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e il ripristino della carreggiata dopo l'incidente. Il traffico è stato deviato sulla statale 16.